Ciao mi chiamo Danilo e nella vita facciamo anche il geometra, facciamo un altro video brevissimo che puntualizza alcuni particolari sull'applicazione dei vari bonus. In questo caso la domanda che viene posta a fisco oggi, cioè all'agenzia delle entrate, è sul super bonus ma in realtà riguarda tutti gli ambiti. Come lo scorso video per il comodatario era una domanda fatta per il bonus 50% che comunque aveva senso anche per gli altri bonus, in questo caso è per il super bonus ma vale anche per esempio per il bonus 50%. E riguarda il familiare convivente in questo caso e cioè la fruizione del bonus da parte di un soggetto che non è né il proprietario né l'affettuario. Ora la domanda qui è del figlio di due coniugi che hanno in proprietà un immobile che però non hanno possibilità di fruire del super bonus e non hanno possibilità o si sono visti rifiutare la possibilità da parte delle banche di cessione del credito. Ora la domanda del figlio è posso sostenere e agevolare io la spesa anche se non sono proprietario o meglio se ho un'altra proprietà? Ecco l'agenzia risponde e te lo andiamo a vedere tra poco prima come sempre ti invito a lasciare mi piace al video e ad iscriverti al canale se vuoi accedere ad altri contenuti come questi brevi dove puntualizzo e approfondisco alcuni particolari di interpretazione dei bonus sulla base anche dei chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate o delle neo dei vari enti che sono preposti a dare questi chiarimenti o se vuoi accedere ad approfondimenti ulteriori come quelli che faccio durante le live il martedì giovedì e sabato alle 14 sono in diretta live e puoi partecipare e la live è aperta a tutti. Poi puoi vedere i miei contenuti sono tutti qui nel canale youtube puoi anche sostenere il lavoro che faccio attraverso un sistema di abbonamenti che parte che ci sono vari livelli di accesso che permettono di avere diversi vantaggi tra i quali anche accedere ad ulteriori video contenuti dove approfondisco casi pratici ma torniamo sul chiarimento di oggi dato dall'agenzia delle entrate la rivista online dell'agenzia delle entrate cioè fisco oggi andiamo a vedere la domanda riguarda la possibilità di fruire del super bonus avrei la possibilità economica di affrontare le spese su un immobile posseduto dai miei familiari ma di cui non sono proprietario posso accedere io al super bonus come familiare anche se i lavori verranno effettuati su un immobile diverso da quello di cui sono proprietario la domanda può avere due risposte l'agenzia risponde subito la risposta è negativa a meno che il richiedente che sostiene la spesa non sia un familiare convivente perché se tu sei solamente proprietario di un altro immobile e dei familiari hanno un'altra proprietà e tu vorresti al posto loro sostenere agevolare la spesa non è possibile non è possibile a meno che tu non sia un familiare convivente cioè abiti con in questo caso i tuoi genitori tra i vari soggetti che possono beneficiare del super bonus se rientrano le persone fisiche sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due per quanto riguarda l'efficientamento energetico e devono possedere o detenere l'immobile quindi o un titolo di proprietà o affitto o comodato però aspetta anche ai familiari conviventi del possessore o del detentore a condizione che sostengano le spese e ulteriori condizioni devono essere conviventi con il possessore o detentore alla data dell'inizio lavori un po' come la data di registrazione del comodato dell'affitto che deve essere alla data dell'inizio lavori o alla data del sostenimento delle spese se antecedenti adesso ecco in questo caso il figlio se abita con i genitori quindi se è un familiare convivente può sostenere agevolare la spesa per conto dei propri genitori che sono proprietari però c'è un altro requisito ulteriore le spese sostenute riguardano devono riguardare interventi eseguiti sull'immobile dove si abita ma anche su un altro cioè il familiare convivente può agevolare le spese anche inerenti ad un immobile diverso da quello dove convive con i propri familiari anche diverso da quello destinato ad abitazione principale nel quale però può esplicarsi la convivenza e infatti la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore nel caso in cui gli interventi effettuati su immobili non sono a disposizione ad esempio se sono affittati o concessi incomodato non è possibile per il familiare convivente in quel caso accedere alle agevolazioni lì solamente potranno agevolare le spese solo i possessori o eventualmente in quel caso il comodatario o l'affettuario ecco il familiare convivente in questo caso il figlio se abita e quindi è convivente con i genitori può agevolare le spese a certe condizioni se l'immobile è un immobile diverso da quello dove abitano l'importante che sia libero se invece non abita con i propri genitori non abiti con i tuoi familiari non puoi agevolare per loro conto le spese su un immobile di loro proprietà in questo caso la risposta è per il super bonus ma riguarda anche il bonus 50 per cento il sismo bonus ed ecco bonus ci vediamo al prossimo video approfondimento come questo lascia mi piace se ancora non l'hai fatto ti ringrazio ciao 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 ciao